Argento individuale e bronzo a squadre. La sciabola italiana arricchisce il medagliere olimpico con il contributo di Diego Chiuzzi, 31 anni, napoletano. Ed oggi, per ringraziarlo dell'impresa, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha ricevuto l'atleta nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, con le sue due medaglie e con lo staff tecnico, per consegnargli un riconoscimento a nome della sua città. Il prossimo obiettivo è riposarsi, il prossimo obiettivo è quello di fare bene i mondiali l'anno prossimo in Ungheria, cercare di dimostrare che non è stata solamente una giornata fantastica ma che da lì è nata la mia nuova carriera e di dimostrare a tutti quanto valgo ancora. L'ora arriverà, sono sicuro che l'ora arriverà prima o poi, ogni giorno mi alleno per quello. La dedico sicuramente a me stesso perché ho avuto tanta fiducia in me e ho lavorato intensamente ma la dedico anche alla città di Napoli perché ne ha bisogno, abbiamo bisogno tutti quanti di lavorare intensamente e poi goderci queste vittorie e dobbiamo sapere che abbiamo la città a disposizione la città più bella del mondo. Una medaglia sognata fin da quando a sette anni conobbe questo sport, così racconta Diego, che tiene a sottolineare come la sua napoletanità sia stata un punto a favore nel mix che lo ha formato e che gli ha fatto raggiungere i livelli più alti al mondo. Ho apprezzato molto anche le sue parole nel momento in cui ha vinto la medaglia, ha avuto il pensiero per Napoli e l'orgoglio di essere napoletano. Questa è l'occasione per ricordare non solo quando si vincono le medaglie che Napoli non è solo il calcio, il calcio Napoli ma è tantissime altre discipline sportive. Molte di queste fatte in condizioni difficili, non sempre con impianti adeguati, anche in quartieri a rischio. Molto bello secondo me questo messaggio di uno sport pulito. Lui ha vinto in modo pulito, ha vinto due medaglie, una da solo, l'argento e un'altra in squadra. Quindi un bellissimo messaggio per lo sport italiano e per Napoli.